Rea Giovanni inizia la propria attività nel 1978 con lavorazioni prettamente artigianali nel settore della carpenteria metallica leggera. L'evoluzione del mercato, la richiesta sempre più importante, ha fatto sì che orientasse l'attività anche verso il settore serramentistico in alluminio. Inizia così la storia della Frea in Frea SRL nel 1984 con l'acquisto del primo capannone di circa 700 metri quadri. L'attività viene trasferita dal centro di Baldissero d'Alba nella nuova zona artigianale in località Baroli numero 5 dove è tuttora ubicata l'azienda. La Frea in Frea è una realtà a conduzione familiare, amministrata dal fondatore Frea Giovanni, coadiuvato dalla moglie e dal 2011 dal figlio ingegnere Mauro. L'impegno costante, la dinamicità, la volontà e l'esperienza di oltre 30 anni di presenza nel settore fanno sì che la Frea in Frea in questi anni sia cresciuta fino a potersi proporre come azienda specializzata nella progettazione e costruzione di serramenti in alluminio, facciate e continue, coperture in alluminio vetro, rivestimenti metallici, carpenteria metallica e acciaio inox. Oggi la superficie coperta è di circa 11.000 metri quadri, di cui 5.000 adibiti alla costruzione degli infissi e delle facciate in alluminio, 1.600 metri quadri adibiti alla lavorazione di materiali compositi per rivestimenti, al taglio e a piegatura lamiera e dal taglio laser, 3.000 metri quadri alla carpenteria medio-pesante, 1.000 metri quadri a magazzino con annesso magazzino accessorio automatico e 400 metri quadri ad uffici. L'ufficio tecnico, cuore dell'azienda, si occupa di progettazione preliminare, esecutiva e assistenza in cantiere. Quando nasce un progetto si è spesso chiamati ad offrire il supporto con uno studio preliminare, proponendo soluzioni tecniche che mantengono fede alle caratteristiche del progetto e alle aspettative del progettista. I tecnici sono dotati dei più recenti software grafici, dal rilievo in tridimensione alla progettazione, allo sviluppo delle commesse con programmi specifici per serramenti e involucri di facciata collegati direttamente con la produzione. Le lavorazioni dei serramenti in alluminio e delle facciate continue sono realizzate con attrezzature altamente automatizzate, centri di lavoro appositi collegati direttamente con l'ufficio tecnico, che permettono lavorazioni di elevata precisione. L'assemblaggio è eseguito da personale altamente specializzato, che vanta esperienza decennale in questo ambito. Il nostro obiettivo è realizzare prodotti di qualità rispondenti alle sempre più grandi esigenze della clientela. Frea & Frea si occupa anche di rivestimenti di facciate con pannelli in rete di lamiera stirata, realizzati con pannelli in alluminio composito, lavorato con centri di lavoro specifici, pannelli in rete stirata di diverse tipologie e colorazione, che hanno la capacità di migliorare l'impatto visivo e ambientale delle strutture. L'attrezzatura presente in azienda, il taglio laser, permettono di realizzare strutture architettoniche di alta qualità, con lavorazioni sempre più precise che riescono a soddisfare ogni tipo di esigenza, architettura, edilizia civile, capannoni industriali.